Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana percentualmente più colpita dal problema mianto, presente in quantità pari a un milione di tonnellate rispetto a una rilevazione complessiva di 32 milioni di tonnellate a livello nazionale. 20 decessi e quasi 200 casi accertati di malattie professionali da mianto rilevate lo scorso anno in regione. Un crescendo costante dal 2011 che, come è stato rilevato oggi a Trieste nel corso della presentazione del Vademecum, Conoscere l'Amianto, edito dalla regione Friuli Venezia Giulia, dovrebbe proseguire fino al 2020, in quanto i danni provocati dall'amianto si manifestano a distanza di 20 e perfino 40 anni. Ogni anno l'inle Friuli Venezia Giulia era a 1.400 prestazioni economiche ai malati accertati in regione, pari al 10% del totale italiano a fronte di un'incidenza territoriale nazionale del Friuli Venezia Giulia di appena il 2%. Conoscere l'Amianto, ha commentato l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, faciliterà il lavoro dei medici di medicina generale e contribuirà ad accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto ad un problema reale, che se gestito con le dovute attenzioni può essere contenuto. Il Vademecum è frutto di una collaborazione tra INER, Regione, Azienda per l'assistenza sanitaria Friuli Venezia Giulia, Università di Trieste, Centro regionale Amianto e Commissione regionale Amianto. Conoscere l'Amianto è stato inizialmente prodotto in 7.000 copie che saranno distribuite nelle strutture pubbliche, recapitate a tutti i medici di medicina generale e in parte affidata all'Inei. A breve sarà anche scaricabile la versione online dal sito web della Regione.